Stai in vacanza, senti, ti sei accorto? Specie di villaggio Artur, però c'hai le regole sue. Che è sto mostro? Perché sto qua? Ci mangia bene qua, per questo ci vengo spesso. Benvenuti sulla nave dei pazzi. Tutto senza senso. No, poi se ti metti a cercare il senso di via, non è matto. Ma non lasciare che nessuno ti racconti il mondo. Tieni il tuo sguardo aperto. Sì, però. con la mia pagina. No, poi. Grazie a tutti.